Catania ha una straordinaria tradizione di pallavolo, è uno sport che io amo pazzamente, che ho cercato di giocare da ragazzo, è uno sport che ha espresso a Catania il massimo. Abbiamo avuto campioni di livello nazionale, squadre vincitrici di scudetto, insomma una grande tradizione. Era davvero un peccato che Catania fosse precipitata nella pallavolo così in basso. Sono felice oggi che con un grande progetto, non solo sportivo ma anche sociale, siamo riusciti a fare un enorme e gigantesco passo avanti. La città di Catania sarà vicina alla sua squadra, adesso nel campionato di A2 e faremo sentire l'incoraggiamento non solo dei tifosi e degli appassionati ma di tutta la città. Catania deve tornare a essere quello che è stata anche nel lavoro.